L'operazione scuole sicure è ripartita negli istituti superiori. C'è grande entusiasmo e sensibilità da parte dei ragazzi e dei genitori, ha commentato l'assessore alla coesione Mila della Dora durante il sopralluogo di questa mattina al Bramante. La buona affluenza ci fa ben sperare. Dopo lo screening nelle scuole medie della scorsa settimana, per la terza volta il comune di Pesaro torna negli istituti superiori per monitorare gli studenti e garantire loro un rientro in classe in sicurezza. Come sappiamo, i ragazzi fino ai 16 anni sono esclusi dalla campagna di vaccinazione e dai 17 lo faranno probabilmente in estate. Per questo, spiega della Dora, i tamponi sono l'unico modo per consentire di concludere l'anno scolastico in sicurezza. Su 870 tamponi fatti, 7 studenti sono risultati positivi. Verranno subito sottoposti al molecolare, così che in meno di 24 ore avranno la conferma o meno della loro positività. Un ulteriore controllo per accorciare i tempi, ha proseguito l'assessore, dare più certezza alle famiglie, ma anche limitare i disagi e stati d'ansia provocati dalle lunghe quarantene e da questo anno di pandemia.